Non cedete alla tentazione dell'assoppimento e della disperazione, svegliate il mondo e illuminate il futuro. È l'esortazione che Papa Francesco ha rivolto ai partecipanti del capitolo generale delle Piediscepoli e del Divin Maestro. Nel corso dell'udienza il Pontefice ha insistito sul tema della gioia che nasce dall'incontro con Cristo e della speranza, una vera responsabilità per i cristiani che non si basa sui numeri o sulle opere ma su colui per il quale nulla è impossibile. Il tempo del capitolo è un'occasione propizia per coltivare l'attenzione e l'accoglienza reciproca, abbandendo dalle comunità le divisioni, le invidi e i pettegolezzi. Durante il capitolo, a proseguito Papa Bergoglio, è possibile combattere ogni forma di autoreferenzialità esercitando lo spirito dell'esodo e dell'ospitalità e coltivando un clima di discernimento che consente allo Spirito Santo di guidarci sulle strade del mondo contro la cultura dello zapping e della morte per annunciare la gioia del sentirsi amati. La gioia è una bella realtà nella vita di molti consacrati, ma è anche una grande sfida per tutti noi. Una sequela triste è una triste sequela. E la gioia autentica non autorreferenziale o autocompiaciuta è la testimonianza più credibile di una vita piena, perché in essa traspare la gioia e la bellezza di vivere il Vangelo e di seguire Cristo. Questa gioia allontana da noi il cancro della rassegnazione, frutto della cidia che inaridisce l'anima.